grazie ma sembri che mangi, sembri che mangi, vedi che c'è lì si mette in macchina, chi è? io sono criticato che il terzo copito avrà messo due euro ah vai amor ci puoi chiedere due euro al signore dell'ottavo? grazie non li vuole ma lì si mette in macchina? guarda, grazie non li vuole ma ti stanno dando due euro veramente? sì, grazie non li vuole e quel passoio di chi è? quello è regalato da lei scusi posso farti una domanda? quando è che ti accreditano lo stipendio? a che ora? domani vediamo l'orario domani vediamo l'orario comunque ragazzi se oggi avete visto la live io stavo mangiando una di queste ve la faccio vedere l'abbiamo presa proprio qua all'ottagono a Mascaluccia non so se lo conoscete grazie ormai è di casa volevo dire siamo all'ottagono quindi come dice Armando se volete venire a registrarci chiamo altri 10 minuti se volete venire a registrarci siamo qua visto che l'altra volta ci hanno registrati comunque ragazzi venite all'ottagono guardate grazie che sta muccando a Elisabeth un bacio a tutti quanto? un bacio un bacio ma perché ci prendi questi due euro? grazie non li voleva dacci due euro a due signori no ci devo dare grazie brutte figure ragazzi ma anche qua all'ottagono a Mascaluccia è brutte figure vabbè a dopo dopo